ben tornati sul canale di giovanni volpi oggi mercoledì 26 maggio 2021 ho deciso di aggiungere un video estemporaneo alla galleria quindi un fuori programma come quello che girai l'anno scorso il 29 luglio in val di fassa in occasione della salita da campitello al passo molignon io non sono un gran podista e non ho proprio un passo da corsa in montagna però un po mi piace affrontare le salite tenendo un passo con una falcata modesta e vorrei consigliare questo percorso soprattutto a chi abita in veneto e quindi a poca strada da fare ma anche chi proviene dalle regioni vicine come trentino emilia romagna o lombardia questa potrebbe essere una risorsa per una bella gita domenicale e farsi una sana sgambata o a piedi di camminata di corsa oppure in bicicletta e adesso che esistono anche le bici a pedalata assistita meglio ancora perciò potete anche non essere perfettamente allenati per affrontare questa salita mi trovo a sovergene quindi appena appena fuori dall'autostrada venezia belluno è un paesino di circa 400 abitanti uno di quelle mete di montagna di dolomiti che non appartengono alla cerchia dei punti turistici famosi non aspettatevi di trovare piste da coppa del mondo di sci non aspettatevi di trovare le cime più famose delle dolomiti ma è un paese delizioso appena fuori di mano e soprattutto caratterizzato dal fatto di essere al centro di una rete di sistemi idroelettrici che furono progettati e costruiti all'interno dell'epoca fascista per cui tutti questi sistemi alla fine fanno capo alla centrale proprio di questo piccolo paese in pratica la centrale è più grande del paese si chiama Achille Gaggia e per vari decenni è stata addirittura la prima centrale idroelettrica d'europa ora è comunque una delle più importanti da sovergene dunque parte una strada che conduce all'interno di questa valle stretta la val gallina una caratteristica di queste località ovviamente non è quella di essere particolarmente alte perché come ho detto siamo appena fuori dall'autostrada scusate sto cercando una posizione che sia favorevole soprattutto per il vento perché in questi giorni il meteo è molto variabile e quindi tra una perturbazione l'altra soffiano delle correnti forti per cui cerco sempre una posizione che non disturbi il microfono dicevo allora che la località è appena fuori dall'autostrada quindi non ha una un'altitudine particolare siamo circa a 400 metri di fondo valle però le montagne dolomitiche tutto intorno come vedete qui intorno a me si alzano letteralmente verticali quindi raggiungono rapidamente con delle pendenze vertiginose delle quote di minimo 1600 metri e si va anche oltre i 2000 quindi voi dal fondo valle vedete letteralmente delle pareti di circa 1500 metri alzarsi sopra la vostra testa e dunque i boschi rapidamente di radano negli ultimi alpeggi fino alle punte di roccia e naturalmente in mezzo al verde si intravedono quelle caratteristiche formazioni rocciose dolomitiche insomma tutte particolari che gli appassionati della montagna conoscono molto bene allora la la val gallina è una è una piccola valle appunto che fa capo al al paese di sovergene dunque è una traversa laterale della della vallata che vi conduce fino a cortina d'ampezzo sovergene è ovviamente essendo parte di questo sistema di impianti idroelettrici ovviamente è molto legato anche al catastrofico evento del 9 ottobre 1963 con la tragedia legata alla frana del monte toc che scatenò il disastro del bayon e anche la val gallina è coinvolta appunto nella nella catena dei vari impianti idroelettrici per cui all'interno di questo di questa spaccatura di questa di questa vallata veramente molto molto stretta è stato ricavato un invaso ad utilizzo appunto idroelettrico in questa giornata purtroppo non sono riuscito a documentarvi una visuale del lago al pieno dell'invaso perché crea un colpo d'occhio fantastico purtroppo a quanto pare il lago è stato sfruttato molto ed è praticamente quasi quasi secco o certamente è al minimo del proprio livello e siamo sicuri comunque che con le precipitazioni di questi giorni dovrebbe rimpolparsi abbastanza abbastanza velocemente è chiaro se tengono le chiuse serrate dunque dunque questa strada la strada che entra nella nella val gallina non è ovviamente una di quelle da percorrenza normale è una strada molto stretta ha una pendenza media circa dell'8 10 per cento e ho cercato dunque di percorrerla tutta di corsa fino fino alla alla diga allora ripeto la mia corsa non è il massimo è io non sono un gran podista quindi appena comincia la salita le falcate diventano un pochino corte però ho cercato di tenere un passo regolare e costante ripeto pendenza circa del 10 per cento allora la prima mezz'ora è di salita continua in paese si percorre circa chilometro e mezzo di pendenza regolare molto molto dolce costeggiando l'ultimo gli ultimi avamposti diciamo del paese dove abbiamo la vecchia fabbrica degli occhiali la sover e dopodiché la strada prende a destra all'interno verso verso il bosco e si comincia a salire appunto verso la val gallina appunto perché quella strada si chiama via val gallina da lì la salita inizia a essere un pochino più più ripida e comincia cioè innerpicarsi nel bosco con delle rampe abbastanza lunghe fra un tornante e l'altro che vi consentono di arrivare prima a un punto di svolta un tornante chiamato località meduc da cui parte un sentiero molto molto ripido che congiunge a un tracciato che sovrasta il paese a una certa altitudine chiamato frangifuoco un sentiero appunto caratteristico per l'epoca in particolare in cui queste queste vallate erano popolate da una civiltà contadina che sfruttando ovviamente il territorio e facendovi una manutenzione adeguata alla propria vita e alla presenza del bestiame logicamente avevano determinato un aspetto della vallata completamente diverso quindi le boscaglie non erano così fitte così vicine al paese vi era molto più pascolo chiaramente vi era anche una cura diversa del territorio con un atteggiamento differente perché la presenza dell'uomo era proprio costante centimetro per centimetro quadrato del territorio era caratterizzato dall'occhio costante continuo dei contadini che vigilavano sulla sulla situazione e di conseguenza la montagna aveva un aspetto molto molto vivo in funzione della dell'attività locale e logicamente quando partivano partivano incendi magari anche per bruciare sterpaglie per insomma fare tutti questi naturali cicli di rinnovamento della della fertilità del del terreno quindi per produrre le ceneri che poi vanno utilizzate a concimare e così via allora si creavano questi questi perimetri chiamati appunto frangifuoco che servivano proprio ad arginare gli incendi in modo da non trasformarsi in eventi catastrofici e la frangifuoco appunto è un sentiero caratteristico tra l'altro molto molto ripido e panoramico perciò se vi volete togliere la voglia di farvi una mezz'ora un'ora di trekking spingendo bene sulle gambe e sui polmoni la salita da sovergine alla frangifuoco è particolarmente divertente dopodiché come dicevo la frangifuoco si collega con una discesa abbastanza ripida a meduc che è a livello intermedio nella salita qua verso gli impianti della valgallina andando più avanti oltre meduc passate un paio di rampe di salita si trova un punto molto caratteristico della di questa zona con una piccola cascatella che scende proprio sul tornante quindi vi potete refrigerare se il sole picchia gustando questa quest'acqua freddissima che passa tra pascoli e cade proprio tra le rocce e questa diventa anche se vi abituate a frequentare questa zona con una certa frequenza diventa un modo anche per tastare il polso della del livello di presenza d'acqua nella nella vallata queste sono zone altamente piovose storicamente sono caratterizzate da una pioggia abbastanza abbastanza frequente che rende la vegetazione molto rigogliosa però come è capitato un paio di anni fa mi ricordo ci fu un periodo di siccità piuttosto lungo mi sembra quasi tre mesi addirittura quindi anche anche queste queste zone si erano inaridite abbastanza e di conseguenza anche il tornante con questa questa cascatella non aveva più la presenza della dell'acqua non vi era neanche uno sgocciolamento minimo ecco e quello diventava un po il punto di riferimento per per capire quant'acqua ci fosse lungo questi pendii e all'interno delle vene nascoste nella montagna perché non dimentichiamo che qua sopra in in val gallina c'è anche il punto di captazione dell'acquedotto locale perciò credo anche che quel rigagnolo che cade sul tornante faccia parte di una derivazione o comunque di uno scarico naturale proprio di questo punto di sorgente della dell'acquedotto dopo di che si sale ancora io ho misurato mezz'ora di corsa partendo dal fondo e si arriva alla a una galleria intermedia che costituisce il primo possiamo definirlo il gran premio della montagna quello è il punto in cui finisce la salita dopo di che comincia un tratto leggermente in discesa si va avanti per qualche centinaio di metri dopodiché si procede in saliscendi vi è comunque una parte di discesa abbastanza rilevante da qui in avanti e allo scadere del 43esimo minuto mi sono dunque trovato qua sono arrivato al coronamento dell'impianto della val gallina è una zona fantastica perché vedete che pur non essendo una località tra quelle più celebrate delle alpi vuoi per l'impianto sciistico vuoi per la cima leggendaria vuoi per il teatro degli scontri più epici della della guerra mondiale però è purtroppo purtroppo dispiace perché queste queste zone sono diventate famose per per il disastro del 63 ma vedete se voi vi volete ritagliare dicevo magari senza abitare lontanissimo vi volete ritagliare una anche solo qualche ora per una piccola gita per gustarvi della montagna veramente bella anche perché qua appunto non c'è quella presenza esagerata di hotel di seconde case non c'è il turismo selvaggio no che che un po toglie anche il gusto della dell'incontaminato della montagna ma avete questo paese delizioso che si trova di là della della vallata quindi nella parallela interna rispetto alla alla statale alemagna e siete fuori da tutto in un silenzio quasi irreale affiancati dalla più quelle più grandi centrali idroelettriche che si trovano in europa e e poi all'interno di questo di questo paese voi vi gustate una una vallata veramente silenziosa con dei pendi ripidissimi per cui se volete fare soprattutto allenamento per prepararvi a camminate a imprese corse trail eccetera ecco vi posso assicurare che qua vi vi togliete la la voglia ecco almeno almeno di spezzare un po il fiato ma soprattutto se volete scattare qualche bella foto e respirare dell'aria buona qua gli ingredienti ci sono tutti io frequento queste zone da un po di anni è per per motivi familii prima sentimentali diventati poi familiari e e devo dire che ogni volta è sempre una bella una bella riscoperta ecco quindi le dolomiti non sono solo trentino non sono soltanto ovviamente la bellezza del del cadore delle delle catene delle cime più 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 prossime al confine all'austria al sud tirolo a tutti i territori ladini qua abbiamo comunque delle risorse importanti che meritano di essere considerate quindi fate tappa in questi territori perché oltre a essere ricchi di storia una storia che come vedete purtroppo è anche molto molto sofferta tragicamente sofferta è comunque una storia di cultura profonda di un dialetto simpaticissimo e di una e di una popolazione che ovviamente è ancora integrata radicata in questo territorio riflettendone l'anima e lo spirito profondo però come vedete c'è una fortissima presenza tecnica dell'uomo quindi tutte le vallate qua sono forgiate dagli impianti idroelettrici che diedero una svolta all'italia della dei primi decenni del secolo del novecento perciò qui oltre ad avere lobby lo sport tipico locale no che si dice essere quello di spaccare la legna per fare fare scorte per l'inverno qua abbiamo ovviamente anche una fortissima occupazione nel settore dell'energia elettrica perché qua tantissimi degli anziani del posto hanno hanno prestato servizio presso l'enel presso quindi la questa questa compagnia che appunto ai tempi dell'epoca fascista era una società privata chiamata società privata e società adriatica dell'energia elettrica quindi conosciuta come sade e che appunto fu protagonista della anche della creazione dell'impianto del biont e di tutto quello che ne derivò tragicamente ecco però vedete come tutti gli altri impianti siano ancora perfettamente attivi connessi con la centrale di soverzene che riceve una una caterva d'acqua incredibile di dai dai dislivelli più alti che vengono convogliati dentro queste condotte forzate all'interno delle montagne e devo dire che questi impianti però nella loro nella loro posizione all'interno del paesaggio costituiscono dei fattori di estrema spettacolarità delle attrattive per cui insomma vale vale la pena vale la pena affrontare la salita e per per godervi questa questa destinazione tra l'altro appunto essendo questa una strada di servizio che porta alla diga abbiamo qua anche un ampio piazzale di parcheggio di manovra dei mezzi per le manutenzioni e tutte le attività legate alla gestione non solo della diga ma anche alla manutenzione del territorio quindi se avete biciclette moto o semplicemente i vostri zaini una copertina per per un picnic qua potete potete trovare tutto il posto che volete anche solo per gustarvi dieci minuti per riprendere fiato e poi ripartire verso valle insomma la la montagna qua viene sfruttata proprio per le sue incredibili pendenze molto molto ripide che determinano dei salti dei dislivelli enormi di acqua generando delle potenze mostruose per cui tutta questa forza questa energia viene convogliata all'interno delle montagne e tradotta in energia prima attraverso impianti intermedi e poi all'impianto finale di sovergene che ha ancora un'importanza strategica per tutta la rete energetica nazionale pensate con un paesino intorno che forse forse allo stato odierno non arriva neppure alla soglia dei 400 abitanti a meno che recentemente non non ci sia stata qualche nascita o non sia arrivato qualcuno da fuori ad acquistare un appartamento di quelli di quelli abbandonati appunto dall'enel che una volta erano riservati proprio alle attività degli degli operai degli ingegneri e delle squadre di lavoro insomma si vede un po di storia si vede proprio anche il percorso del novecento in questi territori quindi la natura che è stata violata ecco cercando ovviamente di mantenere la massima integrazione possibile da questi impianti spettacolari ancora ancora in attività che regalano queste queste visuali mozzafiato perché camminare sulla diga è veramente qualcosa di impressionante nonostante non sia ovviamente una delle principali non sia una delle più imponenti ma queste geometrie sommate con queste pareti lisce le strutture a doppio arco per generare la resistenza alla pressione idrostatica dell'invaso unite alla pendenza di queste vallate danno veramente un senso di profondità spettacolare che aggiunge insomma aggiunge veramente stupore quando si guarda questo paesaggio bene signori vi volevo raccontare appunto questo questo posto questa località che appunto non rientra tra quelle più celebri sicuramente ma merita merita di essere considerata proprio per una passeggiata una gita qualche ora di rigenerazione profonda nel corpo e nello spirito grazie per avermi seguito fin qui e ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.